Ecco il nuovo direttore generale del Trapani Calcio, si tratta di Claudio Anellucci, ieri allo stadio per la partita con la Mezzia e presente anche in conferenza stampa per la presentazione. Nella conferenza di oggi, come ho detto, ho il piacere di presentarvi ufficialmente il nuovo direttore generale del Trapani Calcio, che è Claudio Anellucci. Non serve a me raccontarvi la sua carriera nel mondo del calcio, procuratore di giocatori importantissimi, amico, e quello conta, mio personale, e con l'incarico nella parte sportiva di dirigere un po' tutto quello che riguarda e riguarderà il settore, quindi direzione sportiva, gestione della squadra, ripongo in lui la massima fiducia. Sono orgoglioso di essere qui vicino al Presidente, perché ci lega un rapporto che va oltre il pallone, e quella è la cosa più importante. Sono contento che sono arrivato in un momento particolare, perché essere qui oggi vuol dire portare bene, e quindi portiamo bene, e le cose positive ci piacciono. Quindi siamo per costruire qualcosa di importante, però invece di parlare preferisco far parlare i fatti, quindi noi siamo qui, come diceva il mister oggi, che ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ho visto oggi questi animali in campo che voglio sempre vedere, vorrò sempre vedere, questa voglia di arrivare sempre in una degli altri. Quando avremo questa voglia andremo lontani. Poi è chiaro, slide in dorsi del pallone, il pallone, il palo entra, il palo esce, non è colpa di nessuno. Però ce la metteremo tutta per stare sempre con questa cattiveria e questa voglia di uccidere gli altri, in maniera sportiva chiaramente, con la fame e la voglia di arrivare sempre più in alto, perché questo merita questa città, questi colori, e merita il Presidente per quello che ha iniziato a fare e non avete ancora visto niente.